Santo, parliamo di questo 2024, è arrivato da pochi giorni e quali saranno le novità per il Museo e i Giardini di Vitagora? Le novità sono di due tipi. Uno non è una novità perché ripetiamo e consolidiamo l'attività ormai storica che riguarda la matematica e la scienza, soprattutto in collaborazione con l'Università della Calabria e il Dipartimento di Matematica. E poi ci sono tutta una serie di mostre relative all'arte contemporanea, sempre con questo filo che ci collega a Pitagora, alla scienza e alla matematica. Quindi ci sono in programma tutta una serie di mostre che faremo da qui alla fine dell'anno. In cammino con era invece al Museo di Capocolonna? Sì, diciamo l'altra novità vera è che stiamo partendo alla grande su Capocolonna, su quella che è l'attività museale, sul Museo archeologico di Capocolonna. Qui abbiamo attivato già tutta una serie di attività che riguardano la storia e l'archeologia in collegamento con l'enecostronomia. È già partita quasi settinalmente questo percorso a tavola con era, l'abbiamo fatto col vino, l'abbiamo fatto con l'olio, sempre in collaborazione con la direzione museale della Calabria, quindi con il dottor Demma e con il dottor Aversa che molto spesso è il relatore. E adesso, dalla prossima settimana, andiamo a questa nuova attività che è alla scoperta di era. Quindi un percorso guidato che prevede il Museo archeologico, la Via Sacra e l'area della Colonna, sempre accompagnati dagli esperti museali della direzione museale. Quindi dobbiamo dire che questo è un territorio che ha tanto da mettere in evidenza e grazie alla tua attività, grazie anche all'attività del direttore del museo, sia a Demma che del direttore di Crotone, a Versa, si possono fare degli eventi che non riguardano soltanto il punto di vista culturale di una storia del passato, ma anche attualizzarlo. Sì, diciamo che è questo lo scopo, di far conoscere innanzitutto la nostra storia, la nostra identità ai crotonesi, quindi alla comunità del territorio di Crotone e della sua provincia, ma anche offrire un servizio di qualità ai turisti che stanno cominciando a frequentare e a visitare i nostri luoghi. Quindi l'obiettivo è sempre duplice, da una parte questa scoperta e riscoperta della nostra identità e della nostra storia, visto le tante cose belle che abbiamo, e dall'altra offrire un ventaglio di attività che promuovano il territorio. Tu parli di turismo, ti è piaciuta la Crotone che è emersa con l'anno che verrà? Mi è piaciuta perché ha dimostrato che Crotone può cambiare se c'è sinergia e soprattutto ha messo in rilevo che se il nostro ente principale, che è la regione, vuole puntare su questo territorio come nel resto della Calabria, ha le risorse sia umane che economiche per farlo.